Tornerò qui nel settembre 2014 per l'inaugurazione del nuovo ospedale, anche se all'epoca non sarò più ministro, e la promessa fatta ieri mattina nel cantiere di Verduno dal ministro della salute Renato Balduzzi, davanti ai 76 sindaci dell'Ascunio II schierati con la fascia tricolore e alle principali istituzioni regionali con i presidenti della regione Roberto Cotta e della provincia Gianna Gancia, seduti in prima fila in quello che tra due anni sarà l'auditorium del nuovo ospedale di Alba Bra. La giornata in Langa e Roero del ministro è iniziata di Buonora in Piazza Duomo ad Alba, dove a sorpresa ha partecipato alla festa per i 35 anni dell'Associazione Servizi Autisti Volontari Ambulanze a Sava, premiato i sei soci fondatori. Poi con una puntualità da governo tecnico ha raggiunto il cantiere di Verduno, dove ad attendolo c'erano i presidenti della fondazione Nuovo Ospedale, Dario Rolfo, il direttore dell'Ascunio II Giovanni Monchiero e altre 100 tra amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali. Un benvenuto di cortesia, ma anche un messaggio nitido per far capire quello che il territorio sia legato a questo progetto, definito un po' da tutti lungimirante. Gli sportelli della posta centrale di Via Magenta hanno chiuso sabato a mezzogiorno, definitivamente. Sono infatti iniziate nel primo pomeriggio le operazioni di trasloco nella nuova sede. Realizzata al pianterreno del Teatro Boglione, al più noto come Politeama, la durata dei lavori per la realizzazione dello spostamento di tutti i personal computer, dei documenti, degli arredi, dovrebbe essere di una settimana. Non nasconde la sua soddisfazione il primo cittadino Bruna Sibille. Con questo trasloco si chiude una pratica iniziata nel 2010 con l'amministrazione centrale delle poste. Aggiunge, ricordo ancora, con molto piacere, che proprio alla vigilia di Natale di quell'anno ricevete una comunicazione via mail con la quale si confermava l'accettazione del trasferimento della sede di Via Magenta al pianterreno del prestigioso immobile che ospita il Politeama. Le associazioni braidesi hanno tempo fino al prossimo 24 settembre per presentare la propria candidatura ad essere inserite nell'elenco di quelle che hanno diritto ad utilizzare la Casa delle Associazioni, che il Comune ha realizzato in piazza Valfredi Bonzo. Sul sito internet comunale all'indirizzo www.comune.bra.cn.it, sezioni, bandi, gare, i dettagli del bando. Grazie. Grazie.